Per non perderti nessun contenuto su questo canale ti invito a premere la campanella per ricevere ogni giorno i feed e a passare da Instagram per contenuti sempre esclusivi. Buona visione! Cioè quindi mi avete troncato le ali così? Vabbè, almeno adesso c'è un motivo per il quale io non possa imparare volo. Oh, non ce n'è, ad ogni forma io sempre più radioattivo, sempre più radioattivo, sempre più atomico. Ehi, ai miei tempi le generazioni erano solo due, c'erano pochi Pokémon. Aaaaaa, ma i tempi! Quando ancora mi evolvevo con la pietra tuona? Eh, mi evolvevo ancora con la pietra tuona, che cazzo, scusate. Mi sa che l'ha catturato, eh. Lo chiamo, lo chiamo merda, lo chiamo! Lo chiamo disgraziato, perché veramente c'è un Pokémon di merda che però c'è... Mio Dio, che cazzo è un leggendario! Merda l'hai chiamato! L'ho chiamato merda! Oh, dai, comunque sono meno cancerogeno del Rotom Dex, questo va detto. Ehi, apprezzatemi, dai. Io che cosa sarei uno Shinigami di Death Note venuto non male, ma malissimo! No, no, dai, 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 che cazzo sono, ma sono inguardabile! Il treno regionale 3469 di Trenitalia, proveniente da Napoli Centrale, è diretto a Taranto, delle ore 17.42, è in arrivo al binario 2. Sì! Finalmente fuori! 3.000 cazzo di anni, finalmente! Grazie, 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 grazie! Io sarei il gemello scemo di Tornadus, perché altrimenti non si spiega sto aborto che sono diventato. Ridatemi la mia vecchia mega col mio rubino di fiago, vi prego! Ehi, qualcuno riprenda il mio occhio, che non ci arrivo, vi prego, salvate il mio occhio! Bello! Tipo la moglie del cugino Hit della famiglia Adams, fantastico! Mamma, forse ho esagerato, ho preso troppe parti di Trenitalia per fare l'almatura! Essere o non essere, questo amici miei è il dilemma. Io non sono, perfetto, non sono, nessuno mi ha mai fatto, dai! Cazzo, son figo, ma fatemi sta cazzo di mega! Dai! Padre? Simba, mi hai dimenticato? No! Grazie! Grazie!